la campagna elettorale in vista delle regionali del 24 febbraio il candidato del centrodestra Maroni ha confermato che lascerà la segreteria federale della Lega sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta tutto è pronto per l'inaugurazione della linea 5 della metropolitana milanese si attende il solo il via libera definitivo il taglio del nastro potrebbe avvenire il 9 febbraio nuovo presidio dell'unione inquilini contro uno sfratto in via cavezzali 11 in zona Padova a Milano cento persone hanno manifestato dopo l'incendio di settimana scorsa scoppiato all'interno del palazzo Mario Balotelli è un giocatore del Milan il club rosso nero ha infatti raggiunto l'accordo con il Manchester City l'attaccante domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto fino al 2017 e costato 20 milioni di euro più bonus buonasera dal TGN la giornata politica come avete sentito dal sommario in vista delle regionali ha messo in scena ancora attacchi tra i candidati Albertini attacca Maroni sulle affissioni abusive Ambrosoli dice che i valori di comunione e liberazione sono stati traditi dal governo regionale mentre Roberto Maroni conferma che lascerà la segreteria federale della Lega Nord in caso sia di vittoria sia di sconfitta sentiamo Stefano Fumagalli il tema dei cartelloni affissi con i volti un po' impacciati dei candidati si sa a ridosso delle elezioni scatena sempre l'interesse dei politici meno dei cittadini che per qualche settimana sono subissati di facce sorridenti e slogan degni dei tormentoni ferragostani questa volta stacca il gruppo Gabriele Albertini che parte per primo e rileva che Roberto Maroni e Chiara Cremonesi sono già stati pizzicati con cartelloni abusivi e invita in particolare l'avversario di centrodestra a pagare le multe comminate sottolineando che il conto contribuirà ai costi faraonici della campagna elettorale padana più pacate le considerazioni di Ambrosoli almeno nei toni ma pesanti come Macigni una su tutte parte da un tema molto sensibile agli elettori e gli stipendi dei politici con l'avvocato che dice sarebbe opportuno ridurre gli stipendi per dare il buon esempio lasciando margine con quel condizionale di troppo poi prosegue ma mantiene l'incertezza vedremo dice se ridurre gli stipendi o tagliare i rimborsi inoltre Ambrosoli punta il dito niente meno che sui valori Ciellini traditi a detta sua dal governo della regione Lombardia e dal governatore Formigoni valori che proprio ieri Bobo Maroni aveva rimesso in primo piano parlando di sussidiarietà, di modello Lombardia, di fattore famiglia e di famiglie numerose una continuità che piace alla vecchia guardia di una maggioranza che prosegue in interrotta da 17 anni continuità che non corrisponde invece a quella della guida dei leghisti visto che sempre Maroni si è detto pronto a lasciare la segreteria del partito sia in caso di vittoria che di sconfitta aprendo una stagione di congressi oltre che un'ovvia corsa alla carica più importante del partito rimaniamo in regione una ventina di consiglieri dell'opposizione di centro-sinistra tra cui alcuni del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori sono indagati perpeculato nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo e dai PM Paolo Filippini e Antonio D'Alessio l'indagine e lo sviluppo di quella che vede già coinvolti 62 consiglieri centrodestra riguarda spese sospette e personali sostenute con rimborsi regionali nei prossimi giorni verranno notificati gli inviti a comparire ai nuovi indagati spostiamoci a Monza Marco Mariani ex sindaco del capoluogo di provincia Brianzolo si è dimesso da consigliere comunale l'ha annunciato nella seduta di ieri prendendo in contropiere l'intera aula non ho più stimoli per andare avanti lascio ai più giovani in consiglio entra ora Simone Villa ex assessore proprio nella giunta a Mariani Mariani è stato sindaco di Monza dal 2007 al 2012 alle ultime elezioni comunali si era candidato come antagonista della Lega Nord a Roberto Scanagatti che poi è stato eletto del PD Andrea Mandelli del PDL era tra i papabili per un posto alle regionali ma non è entrato in lista quello di Mariani segue di un paio di settimane l'addio di Michele Faglia sindaco dal 2002 al 2007 anche gli dimessosi dal consiglio comunale monzese un'indagine dell'università degli studi di Milano condotta con il sindacato della funzione pubblica della CGL ha descritto opinioni e aspettative dei lavoratori del pubblico impiego a Milano ecco quello che è emerso dallo studio nel servizio di Massimo Scarinzi Mal pagati con poche prospettive di carriera e poca autonomia nel lavoro si descrivono così i dipendenti pubblici di Milano secondo un'indagine condotta dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Statale assieme al sindacato della funzione pubblica di CGL un quadro a tinte fosche su opinioni e aspettative da parte dei lavoratori del pubblico impiego la soddisfazione principale è legata al posto fisso il 90% apprezza la stabilità dell'impiego meno del 30% però si ritiene appagato dal proprio posto di lavoro la maggior parte pensa che nel settore privato retribuzioni e possibilità di carriera siano migliori neanche un terzo, meno di un terzo pensi che possa avere delle prospettive vuol dire che per gli altri la situazione è un po' bloccata e questo in qualche modo deve essere a mio giudizio compensato con altro la percezione che hanno è che nel lavoro privato ci siano retribuzioni maggiori e più riconoscimento del lavoro sotto accusa anche la dirigenza nel 43% dei casi i lavoratori si lamentano per la poca autonomia e per l'assenza costante o il disinteresse del proprio capo ma non fanno sconti nemmeno al sindacato se da un lato apprezzano le battaglie portate avanti da CGL contro il blocco degli aumenti delle retribuzioni dall'altro ritengono che sia stato fatto troppo poco negli ultimi anni per favorire il merito anche da parte del sindacato la maggioranza è a favore di una valutazione delle competenze di una valutazione dei risultati è anche l'idea che si emerga molto di più di quanto sarebbe mai immaginato come problema quello che l'organizzazione non è abbastanza organizzata su obiettivi di cui puoi valutare i risultati la Corte dei Conti promuoverà la gestione della regione Lombardia sanità in equilibrio chiedo scusa ai fornitori pagati a 60 giorni il bilancio dunque gode di buona salute alcune zone d'ombra restano ma solo su consulenze e incarichi affidati senza concorso pubblico in esame c'era l'anno di esercizio 2011 al lavoro da giorni la Corte dei Conti nel mirino i bilanci di regione Lombardia un esame accurato che ha confermato le premesse bilanci in positivo soprattutto sul contenimento del debito sulla gestione di cassa e in gergo tecnico sulla prudente sottostima delle previsioni di entrata diverse dall'indebitamento particolarmente virtuosi risultano i tempi di pagamento i fornitori con solo il 10% delle fatture pagate poco oltre i 60 giorni nonché si specifica si valuta positivamente il contenimento delle unità di personale e delle relative spese capito la parte la sanità dove tuttavia si evidenzia la solidità del sistema finanziario sanitario regionale dovuto sia alla capacità programmatoria che all'efficienza gestionale la sanità lombarda è stata l'unica nella gestione 2010 ad avere un bilancio in positivo a fronte di una situazione nazionale complessivamente negativa le note stonate però non mancano in particolare riguardo le assunzioni a Arca e Arpa le agenzie dedicate ad acquisti e ambiente dove nella relazione si evidenziano assunzioni senza concorsi pubblici e troppi incarichi dirigenziali esterni nel calderone finiscono anche le scelte politiche legate ai ricambi di partiti e assessori per le quali lo spoil system dei dirigenti è eccessivo vicino al 20% del totale criticata anche la scelta ben poco legata al territorio di consentire a infrastrutture lombarde S.p.a. di costruire strutture ospedaliere in Calabria e sempre in tema di infrastrutture sembra poco trasparente la gestione dei fondi per i quali è poco chiaro chi debba occuparsi di che cosa sotto osservazione anche la REU l'agenzia dedicata alle emergenze al lavoro per esempio ad Haiti e in Libia ma i cui profili finanziari non corrisponderebbero ad una sana gestione alle controosservazioni della regione la Corte dei Conti replicherà il prossimo 12 febbraio e tre giorni prima potrebbe essere il giorno dell'inaugurazione delle prime sette stazioni della linea 5 della metropolitana milanese tutto è ormai pronto si attende l'ultimo via libera definitiva Alberto Carreras Forse questa volta ci siamo il condizionale più che mai d'obbligo quando si tratta di grandi infrastrutture sabato 9 febbraio potrebbe essere il giorno fatidico per l'inaugurazione del primo troncone della linea 5 della metropolitana milanese ormai tutto è pronto e si attende dopo quello da Roma il via libera definitivo dall'apposita commissione sicurezza del comune di Milano i collaudi sono andati bene adesso si tratta di concludere gli ultimi addempimenti burocratici la prima linea metropolitana di Milano completamente automatica senza conducente cotrassegnata dal colore Lilla è pronta a collegare via Bignami con viale Zara la costruzione è iniziata 5 anni fa costo 587 milioni di euro 7 stazioni Zara, Marche, Istria, Cagranda, Bicocca, Ponale e Bignami in totale 5 chilometri di gallerie i lavori poi proseguiranno alla stazione di Porta Garibaldi che dovrebbe essere pronta a inizio 2014 e poi sino allo stadio di San Siro con altre 12 stazioni per un totale di 12 chilometri 800 metri allo stadio Meazza il metro dovrebbe arrivare nel 2015 in tempo per l'Expo certo i ritardi accumulati si fanno sentire la linea 5 potrà trasportare circa 14.000 passeggeri all'ora e avrà a disposizione tutti i sistemi di sicurezza più moderni sorvegliati da questa centrale operativa resta ancora il problema del parcheggio di interscambio per i pendolari mai progettato e dunque non mancano le preoccupazioni per quanto potrà accadere nella zona di Viale Fulvio Testi quando migliaia di automobilisti cercheranno un posto auto da Palazzo Marino hanno fatto sapere che verranno incrementate le strisce blu con un costo di parcheggio di 80 centesimi all'ora ma certamente non potrà essere questa la soluzione definitiva la cronaca quasi una tonnellata di hashish sequestrata quattro arresti e un ricercato all'estero è il bilancio dell'opporeazione condotta dai carabinieri della compagnia di Verona Nuova in provincia di Brescia i militari hanno smantellato un'organizzazione composta da italiani e marocchini specializzata nel traffico internazionale di droga in provincia di Brescia è il sequestro di hashish più rilevante degli ultimi dieci anni lo stupefacente era accuratamente confezionato e marchiato per attestarne l'elevata qualità l'organizzazione smantellata importava la droga dal Marocco passando per la Spagna ed erano circa 300 chili al mese in massima parte destinata al mercato bresciano all'ingrosso l'hashish sequestrato dai militari vale un milione di euro venduto al dettaglio lo stupefacente avrebbe fatto guadagnare alla banda quasi 4 milioni di euro la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Francesco Leone tre albanesi accusati del sequestro lampo di Giuseppe Spinelli il contabile di Silvio Berlusconi Spinelli e moglie tra il 15 e il 16 ottobre scorsi rimasero per circa 11 ore nelle mani dei rapitori arrestati il 19 novembre e vennero liberati senza alcun riscatto nuovo presidio dell'unione inquilini contro uno sfratto chiedo scusa in via Cavezzali 11 a Milano un centinaio di persone ha manifestato dopo l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto all'interno dell'edificio un incendio probabilmente di matrice dolosa che si è verificato pochi giorni fa sentiamo momenti di tensione questa mattina in via Cavezzali 11 a Milano dietro via Padova davanti allo stabile già coinvolto in diversi casi di cronaca tra cui un omicidio e un incendio di matrice dolosa pochi giorni fa la Cuba e i comitati di inquilini hanno protestato contro uno sfratto gli affittuari si lamentano per le condizioni in cui è tenuto lo stabile il rapporto tra inquilini e proprietà è danni ai ferricorti alcuni tra i residenti hanno messo in atto da mesi uno sciopero dell'affitto per protestare contro ascensori rotti la mancanza di acqua calda e la necessità di utilizzare termosifoni e stufe elettriche per riscaldarsi con conseguenti bollette da capogiro qua va fatta chiarezza su questo stabile non è un problema delle persone che vi abitano è un problema di come lo stabile viene gestito c'è un problema di sfratti abbiamo già fatto un presidio la settimana scorsa c'erano altri sfratti nelle prossime settimane noi chiaramente cercheremo sempre di impedire che questi sfratti vengano fatti nel corso del presidio i manifestanti hanno avuto un diverbio con una delle persone che gestisce gli appartamenti davanti ai cancelli è andato in scena il confronto a muso duro con gli affittuari morosi intanto chi vive all'interno del condominio racconta la vita dura alcuni sventolano i contratti d'affitto regolari che hanno stipulato nel corso degli anni e che ora in molti casi hanno deciso di non rispettare a causa dei continui disservizi e dei guasti no non c'è assolutamente nessun abusivo noi siamo entrati qui tutti con un contratto di affitto non siamo assolutamente abusivi noi abbiamo comunque un contratto d'affitto quindi siamo entrati pagando la caparra e tutto quello che comporta un affitto della casa noi abbiamo smesso di pagare quando ci si è accorti che comunque non c'erano più i servizi cioè il riscaldamento non c'è l'ascensore non c'è i servizi base per vive e quindi noi da lì ci siamo ribellati e abbiamo deciso di non pagare più l'affitto ha picchiato la compagna Marocchine e ha tentato di spingerla giù dalla finestra davanti alle tre figlie di otto tre anni e un anno e mezzo un barista milanese di 38 anni con precedenti per minacce e porto abusivo di arma è stato così arrestato dalla polizia in viale a Retusa a Milano per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia durante il tentativo ha anche aperto il gas per cercare di provocare un'esplosione ma l'intervento della polizia ha rimesso in sicurezza la casa è stata la bimba più grande a comporre il numero di emergenza e a salvare di fatto se stessa la madre e le due sorelline ci sono sempre più slot machine a Milano l'aumento nell'ultimo anno di videopoker ha avuto un incremento del 24% praticamente il triplo della media nazionale tra i problemi principali quello di molte persone che la propria salute e le proprie finanze la criminalità organizzata ha messo le mani su questo business vediamo secondo molti è una vera e propria invasione un fenomeno che va oltre ogni ragionevole aspettativa cresce ogni giorno di più il numero di slot machine quelle macchinette mangiasoldi che riescono a catalizzare l'attenzione e il denaro di tantissime persone a Milano le sale gioco hanno avuto un incremento del 24% nell'ultimo anno erano 79 nel 2011 e nel 2012 sono diventate 98 la media italiana segna un aumento del 9,6% dunque Milano è decisamente tra le città con il maggiore incremento il triplo rispetto alla media nazionale molti vecchi negozi hanno chiuso hanno ceduto il passo a questo nuovo dilagare e poi non si contano i bar che dispongono dell'angolo dedicato ai giochi complessivamente la febbre del gioco cresce in un momento di crisi economica nel capoluogo Lombardo ci sono 63 agenzie di scommesse 10 sale bingo e 113 sale slot complessivamente le statistiche dicono che a Milano c'è un videopoker ogni 82 abitanti oltre 60.000 macchinette sono installate in Lombardia si calcola che nel nostro paese ci siano almeno 800.000 persone che non possono fare a meno di giocare una vera e propria patologia oltre al triste fenomeno di persone che si rovinano giocando e aspettando una vincita che non arriva mai o che è inferiore ai soldi giocati c'è anche il problema legato alla criminalità organizzata l'Andrangheta già da tempo ha capito che si tratta di un business redditizio e dunque le forze dell'ordine tengono un monitoraggio costante della situazione la Guardia di Finanza solo nella giornata di ieri ha multato sei locali su sette controllati nel nord-est dell'Interlanda milanese spesso le macchinette non dispongono del collegamento obbligatorio con i monopoli di Stato e questo consente facili guadagni illeciti l'anno scorso il gioco ha fatto incassare allo Stato una cosa come 90 miliardi di euro ha minacciato di gettarsi dal tetto a Paullo un volo di almeno cinque piani d'altezza dal nuovo centro abitare in costruzione in via Milano perché senza stipendio da mesi protagonista della protesta un muratore italiano che dopo ore di trattative è stato convinto a scendere dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Donato e dalla polizia locale appunto del comune paullese presentato a Milano il volume il Vaticano II e la comunicazione dedicato al ruolo dei mass media durante il concilio uno dei primi eventi che poteva valersi di una copertura giornalistica a livello mondiale Anna Maria Braccini fu un concilio comunicativo in molti sensi anzitutto come è ovvio per quello che seppe dire al mondo ma anche per come venne raccontato di tutto questo parla il nuovo interessante documentatissimo saggio di Monsignor Dario Edoardo Viganò intitolato appunto il Vaticano II e la comunicazione una rinnovata storia tra Vangelo e società il volume che si avvale anche di un prezioso DVD con filmati d'epoca illumina la complessità del contesto storico conciliare e delle mutazioni che l'inaspettato evento dello spirito ebbe anche con e grazie ai mass media per la prima volta massicciamente schierati e provenienti da tutto il mondo con inizi non facili come si può definire il Vaticano II una primavera anche per la comunicazione se pensiamo che all'inizio i comunicati stampa erano in latino beh certo possiamo dire una reciproca educazione della Chiesa nei confronti dei giornalisti e viceversa dei giornalisti nei confronti della Chiesa in ogni caso come sottolinea Monsignor Viganò Preti Ambrosiano docente neodirettore del centro televisivo Vaticano nulla dopo il Vaticano II fu uguale anche se oggi bisogna ripensare il modello mass mediale ma è bello pensare che tra i nove decreti conciliari uno del 1963 fu dedicato proprio alla comunicazione il titolo intermirifica ossia tra le meravigliose invenzioni tecniche che cosa? appunto quelli che oggi chiamiamo i mass media si può dire che in Italia la comunicazione moderna non solo quella relativa al Vaticano nasce col concilio Vaticano II seppure la figura del vaticanista nasce prima di quel periodo in quel momento che è il momento dei mezzi di comunicazione di massa si struttura e prende corpo in maniera forte questa figura del vaticanista Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore del Milan l'annuncio della chiusura della trattativa è arrivato poco dopo le 17 l'ex nerazzurro sarà a Milano domattina e si sottoporrà alle visite mediche all'ospedale di Busto Arsizio poi la firma del contratto che lo legherà al club di Via Turati fino al 30 giugno 2017 le cifre non ancora ufficiali parlano di 20 milioni di euro più un bonus di 3 milioni di euro al Sidi da pagare in 6 rate ma le nostre fonti dicono 22 milioni di cui 6 subito e gli altri da saldare in 4 rate da 4 milioni l'una a Balotelli invece nonostante in molti assicurino che verrà rispettato il tetto dei 4 milioni a stagione dovrebbe andare un ingaggio di 5 milioni più bonus legati ovviamente ai risultati al rendimento Super Mario torna in Italia dopo 29 mesi domenica potrebbe anche andare in panchina nel posticipo contro l'Udinese ancora cronaca notizia dell'ultima ora sassaiola degli abitanti del campo Rom di via Idro in fondo a via Padova a Milano contro i poliziotti intervenuti per un controllo all'interno dell'area gli agenti arrivati al campo sono stati accolti da un fitto lancio di pietre da parte degli occupanti che hanno danneggiato 3 auto 3 volanti al momento la questura riferisce che 9 persone sono state accompagnate 5 delle quali per resistenza e uno in particolare perché ha tentato di speronare un'auto della polizia a bordo di una Mercedes ed ora in chiusura vediamo quali sono gli appuntamenti in onda questa sera su Telenova alle 19.45 nuova stadio sprint si parlerà ovviamente di Balotelli e del possibile colpo di Cacca l'ultima perla che manca a questo Milan alle 20.45 il film il giudice ragazzino alle 23 la rubrica di economia portfoglio noi ci rivediamo alle 24 per il TGN Notte sigla pubblicità e poi la pagina dell'economia e le previsioni del tempo dopo A presto